3, 2, 1, buon anno, buon 2021. Voglio iniziare salutandovi, ringraziandovi per questo che ci avete seguito nel 2020. Un buon 2021 con pieno di energia, di positività, nonostante le acque inesplorate che abbiamo attraversato, che attraverseremo nei primi mesi del 2021. Giusy, un tuo saluto per il 2021. Buon anno, buon 2021, un 2021 pieno di fiducia per tutto il nostro futuro. Tanti auguri di buon anno. Tanti auguri alle vostre famiglie, alle vostre imprese per una ripartenza. Voglio lasciarvi con una piccola frase. Quella volta mi sono detto che le coincidenze forse sono dei fenomeni molto comuni. Si verificano in ogni momento intorno a noi, nella nostra vita quotidiana, ma della metal non ci accorgiamo neanche, le lasciamo passare così, come fuochi artificiali che vengono fatti scoppiare in pieno giorno. Forse un po' di rumore, ma nel cielo non si vede nulla. Però se desideriamo fortemente qualcosa, le coincidenze affiorano il nostro campo visivo, portando il loro messaggio. Da Uraki Murakami, Insali Cicchi e la Donna addormentata. Buon anno. Tanti auguri. Tanti auguri. Un abbraccio anche al nostro sponsor Ducafè, che ci ha seguito nel 2020. Speriamo che ci segua anche nel 2021. Un abbraccio alle vostre famiglie e una buona ripartenza. Buon anno.